Musica Florinda Trombetta, una passione grande quella per il canottaggio che dopo un forte impegno ti porterà a partecipare alla tua prima Paralimpiade Sì, esatto, sono un paio d'anni che mi sto dedicando a questa attività con veramente tanto entusiasmo, tanta passione, c'è il gruppo che è veramente bello, quest'anno c'è una serenità e un'allegria veramente unica Hai dovuto superare sicuramente una prima concorrenza interna, poi quella delle altre nazioni a Belgrado, è stato difficile o stimolante? È difficile e stimolante nello stesso tempo perché sicuramente l'impegno è stato forte però ti dà molto stimolo il fatto di sapere, di dover sempre dimostrare il meglio di te stesso Questo sia internamente tra di noi sia all'esterno con le altre nazioni Verso le Paralimpiadi, cambio di posizione in barca, sei capo voga, come ti trovi? Mi trovo molto bene, è un'altra di quelle cose che mi stimola molto, è stata una sfida perché comunque hai una certa responsabilità però è una cosa che mi piace, che mi dà la carica Voglio dimostrare di essere in grado di riuscire a ricoprire questo ruolo che mi hanno assegnato Nello sport hai anche trovato l'amore così? Sì, esatto, non nel canottaggio appunto però essendo lo sport per me una passione era inevitabile che anche la persona che mi stesse accanto avesse questa passione Quale obiettivo per le Paralimpiadi? Beh, sicuramente la vittoria, cioè questo è il grande sogno che abbiamo